GF VIP, Nikita sconfortata dall'uscita di Luca, una persona che non vorrei perdere. L'eliminazione dalla casa del grande fratello VIP 7 di Luca Onestini, nella semifinale di lunedì 27 marzo 2023, ha provocato sentimenti contrastanti non solo in Alberto De Pisis ma anche e soprattutto in Nikita Pelezon. Se il ragazzo rimasto nel loft di Cinecittà si è sentito attanagliato dai sensi di colpa per le sue decisioni. La modella triestina, invece, ha avvertito del forte rammarico per come si è evoluto il rapporto con l'extronista di uomini e donne nel corso dei mesi trascorsi. Inizialmente si erano avvicinati instaurando una bella amicizia ma la concorrente non ha mai nascosto di provare una certa attrazione per il compagno e hanno finito con l'allontanarsi tra fraintendimenti e sentimenti non ricambiati. Nikita, ha avuto un momento di sconforto che ha palesato parlandone con Milena Miconi. Ultimamente Nikita e Luca si erano riappacificati e avevano stabilito un rapporto di pacifica convivenza. Il ragazzo aveva giustificato l'accaduto evidenziando di voler trascorrere serenamente gli ultimi giorni in casa. L'eliminazione ha scosso Pelezon che, da sola, si è lasciata andare ad un pianto di sconforto. Che ti è successo improvvisamente, ha domandato Milena Miconi avvicinandosi. Milita ha fatto comprendere che era da tempo che si stava trattenendo, è strano perché era qui da quattro mesi. È strano che non gira più per la casa, che non fa dispetti, ha risposto Nikita. Stavi bene. Era uno stimolo in più e vi eravate riappacificati, ha sottolineato l'attrice per giustificare il malessere della modella. Volevo finire questa cosa insieme, ha dichiarato Nikita aggiungendo, a prescindere dalla sua figura. È una persona che non vorrei perdere nella mia vita. Mi farebbe piacere vederlo per un caffè, ha detto speranzosa Nikita Pelezon riferendosi a Luca. La modella ha ribadito che nell'avventura nella casa si sono fatti del male reciprocamente ma Onestini non è una brutta persona. La triestina ha confidato di aver detto a Luca di non volerlo vedere lontano dalle telecamere ma non è vero perché. In realtà, lo ha solo anticipato per paura. Ormai siamo alla fine e nella vita non si può mai sapere quello che può succedere. Ha affermato l'ex ballerina del bagaglino per incoraggiare la compagna d'avventura e le ha consigliato di non soffermarsi troppo su questi tipi di pensieri. Quanto successo tra lei e Luca è qualcosa di naturale proprio come i sentimenti non corrisposti. Forse, quando il programma sarà terminato, Pelezon ed Onestini avranno la possibilità di riprendere il loro rapporto di amicizia. Grazie. 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 Grazie.